E' la novità che tutti invocano la cura a casa per chi ha il virus. Ecco che da ieri a Sassano è partita la distribuzione di saturimetri a tutte le famiglie con casi positivi. Sono strumenti salvavita, servono a misurare l'ossigenazione del sangue e la frequenza dei battiti del cuore. Averne uno permette sia di togliere ansia al paziente che lasciare liberi gli ospedali per i casi clinici importanti. Un segnale tranquillizzante da parte del comune di Sassano che ha deciso di sostenere le famiglie alle prese con il virus. Donando le piccole strumentazioni, si tratta di pinzette da applicare al dito per nulla invasive, possono essere impiegate con facilità a casa non solo in ambito medico e ospedaliero. E' un'iniziativa promossa dalla nostra amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Sociale Valodidiano Tanagro Alburni, spiega il Vice Sindaco Gianfranco Russo. Il comune sta fornendo quindi gratuitamente ai cittadini più fragili e a rischio contagio un saturimetro. Al momento sono destinati ai nuclei familiari nel cui ambito risultano esserci persone positive. La consegna dei saturimetri rientra nell'ambito di un più ampio programma varato dalla nostra amministrazione che prevede, conclude Russo, tutta una serie di idee finalizzate a prevenire e contenere la diffusione di contagi. E' importante tenere monitorati i positivi e i propri familiari durante i periodi di isolamento e quarantena. L'obiettivo dell'iniziativa intrapresa a Sassano è di aiutare i cittadini, risultati positivi, a orientarsi verso una corretta adeggenza in casa, mantenendo monitorato il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue, così da non dover ricorrere subito alle cure ospedaliere se non necessarie.